Eeeh, what's up? Tutti ci sono e benvenuti ragionando in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video La volta scorsa ragazzi avevamo potuto vedere con il nostro immenso piacere che questo gioco sembra essere abbastanza geniale Tra virgolette nel senso che è veramente pieno, pieno, pieno di riferimenti a tante cose diverse E questa cosa l'ho trovata veramente fenomenale L'altra volta avevamo visto che in questa stanza ragazzi ci sono i due tipi del trasloco Per cui mi sa che non è il caso, no forse erano qui Ok no, oh mio dio Certo che qualcuno potrebbe anche dare una pulita, di tanto in tanto Bella schifezza, Dio santissimo C'è Resort, dai Effettivamente può essere molto interessante ragazzi fare caso agli easter egg che sono presenti Per esempio qua vediamo ragazzi qualcosa riferito a Ramma C'è il panda, c'è Ramma stesso tra l'altro E vediamo un attimino cosa possiamo fare qui Qua c'è Teddy Dad È stato freddato da una scarica di piseglia a bruciapelo E poi dicono che le verdure fanno bene Eh sicuramente guarda Allora aspettate un secondo Vediamo un attimo cosa possiamo fare con la sagoma Quando Ronald si trasferì in questa casa Gli uomini della scientifica avevano appena tolto i sigilli alla cucina A rilevazioni terminate I genitori pensarono bene di lasciare la sagoma del cadavere sul tavolo Bello Confesso però che dona una marcia in più a colazione Una marcia in più è macabro Che dovrei fare con la sagoma? Una volta ho anche provato a sdraiarmi ci sopra Proprio una posizione scomoda per morire Vabbè sdraiato sul tavolo non è così scomodo È un cervellone computerizzato in grado di controllare gli apparecchi elettronici E impedire infortuni domestici Davvero? Vabbè ovviamente ragazzi Questo gioco si basa principalmente sull'esplorazione dell'ambiente Per vedere se possiamo trovare oggetti utili a proseguire Un paio di pentole, qualche mestolo e dei barattoli con spezie di dubbia origine geografica Questa zuppa invece Non ho mai assaggiato nulla di più delizioso Addirittura ma effettivamente come fai a sentirne il sapore? Non c'è mica la lingua, non è papille gustative Ci si può mettere qualcosa forse nel microonde ragazzi? Il punto è che cosa? Cereali kaboom, un'esplosione di energia in pieno petto Letteralmente Ah sì? Cioè nel senso che ti esplode il petto? Ok Ho smesso di mangiarli, li trovo un po' pesanti Va bene, quindi non è il caso di interagire con i cereali I post-it invece? Definirli post-it è un po' riduttivo Diciamo che sono più che altro dei pizzini minatori Che la madre di Ronald lascia al marito quando esce per andare al lavoro Tipo, non so, vediamo Dai, dinne qualcuno No, questo è troppo scurrile, meglio evitare Oh mio Dio Con questo ci sarebbero gli estremi per una denuncia Addirittura! Ecco, questo è leggibile Ricordati di ritirare i panni in lavanderia tornando dal lavoro O sarai tu a fare la fine del bucato Grazie Un piccolo souvenir dall'isola di Pasqua Abbiamo avuto un po' di grane alla dogana ma ne valsa la pena Se la son portata, davvero La leggenda narra che quando il padre di Ronald riuscirà a tirarla fuori dal pavimento Sarà finalmente lui a portare i pantaloni in casa In realtà sarebbe comunque inutile Ma lui questo non lo sa Certo, certo I tipi stanno mangiando comunque ragazzi Vediamo se possiamo interagire con qualche altra cosa Per adesso mi sa proprio di no Il trofeo di una battuta di pesca Una lotta impari a suon di mortaretti e sparachiodi Senza dubbio la cosa più virile mai fatta dal padre di Ronald Wow Possiamo parlare? Sono convinto che se fosse stato in grado di parlare Le imprecazioni si sarebbero sprecate Adesso abbiamo parlato con un tappeto a forma d'orso in bagno Hai presente Superman e la criptonite? Ah è vero Nulla di paragonabile al mio shock anabiliattico È super allergico alle prugne ragazzi Non finché quella prugna mastodontica mi sbarrerà la strada Ok quindi non possiamo andare di là Senza contare i traslocatori Quasi dimenticavo Infatti appunto che questi sono il primo problema E poi c'è un altro problema ragazzi La prugna gigante Per cui dire di provare ad andare lì sopra a questo punto In cucina non abbiamo trovato nulla ragazzi Oh ritratto sospetto ma questo è lo slender Oh mio dio Fa paura sta polla So dove vuoi andare a parare Con questo scherzetto ci siamo già giocati quattro parenti E sei delle sette vite del gatto Davvero Quella bestiola non si avvicina al salotto nemmeno sotto tortura Geniale ragazzi Non posso e soprattutto non voglio toccarlo Va bene ok basta che non ti arrabbi mio caro skinny sposta Ti consiglio di evitare Justin Cauti se ci tieni alla pelle Del resto la mia l'ho già persa da tempo Eh sì ma allora perché c'è scritto sposta scusami Ah non saprei qua c'è un'altra stanza Erbe aromatiche sono davvero erbe aromatiche Il padre di Ronald non è mai stato un tipo da pollice verde Ma se vedessi con quanta dedizione le cura Anche la madre di Ronald è soddisfatta Dice che donano un buon profumo a tutto l'ambiente Qua c'è lozzo di Toy Story 3 Qua c'è Skinny che gioca con due cani Un gatto Qui c'è Jessica Rabbit Qua c'è una dentiera che schifo È il mostro di polvere? No davvero È una specie di grossa palla di polvere Che è qui e sembra avere due occhi E tu chi diavolo sei? Porta rispetto stupido umano Suto Non ci credo raga Hai di fronte a te il futuro conquistatore del mondo Ah sì? Geniale ragazzi Solo gente suonata in questo gioco Assolutamente E tu non ridere non sai da meno Oh Da dove sei saltato fuori? Non salto Non ho le gambe Intendevo dire Da dove sei spuntato Non lo vorrei dire Da sotto al parquet Sono rimasto bloccato lì per anni Ma finalmente sono libero E avrò la mia vendetta Certo, certo Sì, sì La tua vendetta Assolutamente La tua Nemesi Chi sarebbe? Lo Swiffer? La tua Nemesi Chi sarebbe? Lo Swiffer? Non conosco nessuno Swiffer Lascia perdere Non ha accolto la battuta Sembra abbastanza innocuo Ascolta Non per frenare il tuo entusiasmo Ma mi sembra abbastanza innocuo Eh? Voglio dire Non mi sembra dotato E di chissà quali capacità particolari Nei di grande intelletto Mi si caga come l'hai insultato Non puoi pensare di fare molta strada Senza un piano ben architettato Ma davvero vuoi aiutare la polvere? Hai ragione Pensaci ok? Certo, certo Con chi vuoi vendicarti? Con chi è che vuoi vendicarti? Col mondo Non ho nessuno con cui vendicarmi in particolare Quindi mi vendico col mondo Me la prendo con tutti Non fa una piega Eh sì, è logico Vabbè, devo andare Devo andare A presto Ciao, è stato un piacere conoscerti Allora, una delle ceneri Vediamo nascere Chissà dove sono andate a finire quelle ceneri Ah, non c'ha ceneri quindi all'interno Oh Che cavolo Cosa sono? Chewing gum? Sì, gomme da masticare Oh mio Dio Perché sono là dentro? Meglio non toccare più nulla Ho già fatto abbastanza danni Abbastanza danni? Hai preso le gomme che erano all'interno Questa è la dentiera della nonna? Come si dice in questi casi Un domani potrebbe sempre tornare utile Che schifo Ma chi è che l'ha avuta? Aspetta Perché ho preso una dentiera? No, seriamente Sto prendendo cose ragazzi Che non so che diavolo servono Effettivamente Lobotomizzati What the fuck Non possiamo cambiare canale però Va bene Spegniamo Niente Tanto non c'è niente interessante Qua c'è ragazzi Riferimento al creeper di minecraft Allucinante Sembrerebbe niente ragazzi Per cui entrerei in quest'altra stanza E vedrei cosa abbiamo a disposizione Dov'è finito il mio armadio? Non posso allontanarmi dal mio armadio È una questione di vita o di morte Beh insomma Hai capito Sì perché è morto Sei già morto Ci hanno preso l'armadio ragazzi Trapano What the fuck Deve averlo lasciato qui uno dei traslocatori Ah ok posso prenderlo Ah pure il trapano ragazzi Mi rendete conto Ti sembra questo il momento adatto per mettersi a giocare? Beh direi di sì Siamo qui per giocare Ti sembra questo Ok niente da fare va bene Come non detto Cosa c'è scritto qua? The cake is lie The cake is lie Ah e la torta è una menzogna In che senso? Sigmund Freud Che in che senso Sigmund Freud? Un disastro che combinai diversi anni fa con della confettura all'albicocca Non ho mai capito come facessero i genitori di Ronald a dire che fosse il volto di Sigmund Freud Non lo so Sinceramente Possiamo entrare in bagno Ritroviamo qualcosa di utile qua ragazzi Prima di ributtarci nello sciacquone Affacciati vediamo cosa succede Prevedo guai Una delle innumerevoli case della famiglia Wayne Mr. Wayne non è visto granché bene qui in città Non si ferma mai a chiacchierare con nessuno Quella casa è in vendita da anni Ma nessuno ha mai visto i proprietari Non si sa neppure se questo fantomatico Signor Richards in realtà esista davvero I Murray sono persone di una simpatia davvero unica Da piccoli io e Ronald giocavamo spesso con Cooper Ma dopo il divorzio lui è andato a vivere con la madre Furgone Quello deve essere il furgone della ditta di Traslochi Devo assolutamente trovare il modo di entrarci Prima che finiscano e vadano via Va bene Rientriamo Possiamo giocare a freccette davvero Non ci credo Avrai capito che non sono proprio un naso Come parziale giustificazione C'è da dire che non è facile lanciare Senza delle vere articolazioni Sei imbarazzante Poche storie Riesci a camminare tranquillamente skinny Per cui che diavolo stai dicendo Allora ragazzi Diamo un attimo un'occhiata al nostro inventario Abbiamo gomme da masticare Una dentiera Una lenza da pesca Una sveglia Dei piccoli tubi Un boccale della perite E un trapano What the fuck Credo ti stia confondendo con i fondi di caffè Che schifo Sono a posto Ma grazie per esserti preoccupato Della mia regolarità intestinale Skinny Tu non ce l'hai neanche l'intestino Non è vero Sono semplicemente estetico Ma non ce l'hai l'intestino Ha ragione Direi che proveremo a tornare di là ragazzi Ciao robottino Ma possiamo parlare anche con lui Ma lo hai appena fatto C1 non è programmato per dare spiegazioni Pure Mi stai a prendere in giro Può riettare sempre a toglierti le pile E se ti togliessi le pile? Avreste ancora voglia di fare lo sbruffone? C1 è programmato per andare ad energia solare Non provocarmi o ti prendo a mantellate Uh che cattiveria Ti vedo abbastanza provato o sbaglio? Ti vedo abbastanza provato C1 non è stanco C1 sta elaborando i dati E perché non te la svigni nel frattempo? Se ti beccano quei due Finisci dentro qualche scatolone lo sai? C1 non è programmato per farlo Mi stai dicendo che non puoi fare due cose contemporaneamente? C1 non è il primo era aggiornato Come no? Dicono tutti così Sì 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 Infatti Bibi 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 C1 trova tutto questo molto offensivo C1 inizia ad averne piene le valvole di te Su su non essere così scurrile Non dimenticarti che abbiamo fatto richiesta per un Peggy 3 Occhio a quel che dici Geniale ragazzi Geniale Ma la storia delle tre leggi robot? Ma la storia delle tre leggi robot? C1 pensa che tu abbia visto troppi film di fantascienza C1 sarebbe libero di trapassarti il cranio con un raggio laser E usarti come palla da bowling Addirittura Lo terrò a mente Davvero? Grazie per la delucidazione Perché non me lo fai vedere? Beh direi buona fortuna Buona fortuna con i tuoi calcoli Ciao Ci vediamo Proviamo a dare le gomme da masticare al coccodrillo Anche se E tu vorresti dare delle gomme da masticare a qualcuno che sta soffrendo di mal di denti? Sei davvero senza umanità Addirittura No qua c'è la treccia di Rapunzel ragazzi L'altra volta non l'avevo notata Allora ragazzi E' un pochettino che sto andando in giro Perché ovviamente magari Non sempre è chiaro la prima che cosa bisogna fare con i vari oggetti Quindi veramente ragazzi le sto provando di tutti i colori Voglio provare una cosa assurda Visto che abbiamo un boccale vuoto E non ho visto alcun posto in cui poterlo riempire Ho provato in bagno Ho provato ora per tutto Ragazzi volevo vedere se è possibile tipo riempirlo qui Mi ha la fogna in qualche modo Vediamo un pochettino Oh Alla salute Alla salute che schifo Acqua di fogna A chi mi zicca la do l'acqua di fogna? Ah qua si può svitare ragazzi La palla del letto Per qualche strauso motivo Eh niente da fare Cavolo che figuraccia Già Ho usato la lenza sul pomello Nulla non c'è proprio verso di svitarlo Questo dannato pomello Niente Le pillole Ah possiamo prenderle le pillole Che mi zicca le do le pillole Boh Ma ragazzi abbiamo trovato pure un pacco di pillole Detesto chi butta via il cibo Figuriamoci che arriva a gettare persino le posate Possiamo prenderla la porchetta? Ok Sembrerebbe di sì Probabilmente ci servirà a qualcosa E che questo gioco ragazzi non è così ovvio Quindi non è che è tutto chiaro alla prima Anzi bisogna provare diverse volte insomma Mi sa che servirebbe qualcosa di ben più efficace Di una semplice forchetta Sì mi zicca ma così non arriviamo mai da nessuna parte però eh Ah possiamo usare questo affare qua ragazzi Computer aggiornamento La situazione è sotto controllo Non ci sono circostanze che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei presenti Né la corretta fruizione dei dispositivi domestici Ben fatto soldato Riposo Computer giorno della memoria Sono qui a seguito di un incendio dovuto alla combustione dell'olio incandescente di una padella con dell'acqua Una vampata di dimensioni mastodontiche soldato Quattro autopompe Due ambulanze Una fattura dell'FBI Accorsi nel giro di dieci minuti signore E una squadra di medici senza frontiere Che allarmati dal casino generale Ha pensato bene di non far mancare il proprio supporto Ah ah Computer disattivazione Negativo signore Non posso disattendere ai compiti per cui sono stato assemblato signore Stai forse rifiutando di eseguire un mio ordine soldato Mi dispiace signore Non posso fare diversamente signore Bene Computer rompere le righe Questa ragazzi è riferimento a Wall-E Ho freddo John Teddy sono skinny Resisti amico John dove sei? John Non ti vedo John Amico sono qui Sono skinny È tutto buio John Continua a dire John Non te ne andare Teddy Resisti Andrà tutto bene Teddy Teddy rispondimi No Teddy Che cavolo E comunque sono skinny Eh sì Ti ha chiamato John tipo 30 volte Ricordo ancora il giorno in cui non mi accorsi di lei E mi vide Fortunatamente mi scambiò per Ronald Lo misi all'ingrasso per i successivi tre mesi Ora ho finalmente il coraggio di dirtelo Qualche giorno fa ho saltato la cena Oh cavolo Ti prego non mi guardare così Tragedia Smettila di fissarmi con quello sguardo inquisitore Ok hai vinto Vado subito a farmi un panino Appare un Rodrigo selvatico Quanto pare posso prendere diversi chewing gum ragazzi Io sto continuando a frugare un pochettino da per tutto Amici che prima non ho fatto E questo come c'è finito qui dentro Che cosa? Oh what the fuck Cosa è questo? Registratore Si potrà usare nella tv ragazzi In ogni caso io volevo provare un attimino A provare a combinare degli oggetti Perché a quanto pare Sembrerebbe essere possibile farlo Perché prima ho fatto questo Darebbe vita allo scontro finale Tra il bene e le carie E lui mi ha impedito di farlo Ergo vuol dire che si possono associare I vari oggetti ragazzi Non saprei che Questo così niente da fare Chewing gum della colifogna No E lenzia da pesca con la porchetta What the fuck Arpione Che minzica me ne faccio di un arpione Vabbè ragazzi io proverei ad andare a mettere Il registratore nella tv Vedere se succede qualcosa di strano Se associamo il registratore alla tv Prima dovrei accenderla Ah ok Accendiamo la tv Tac E adesso usiamo il registratore Vediamo un po' Ah abbiamo registrato il suono delle sirene ragazzi Ok quindi ci dovrà pur servire a qualcosa il suono delle sirene Vediamo ragazzi se serve contro il barbone Ma c'ho i miei dubbi Potrebbe anche funzionare No Se non fosse una stupidaggine A quanto pare no Sembrerebbe essere una stupidaggine Non è detto che magari tutti gli oggetti che riusciamo ad ottenere Servano subito Probabilmente servano più avanti Non saprei che Visto che sto associando un po' di tutto ragazzi Volevo vedere se succede qualcosa Sto mettendo le pillole Aha Intruglio Perché non proviamo a darlo adesso a qualcuno ragazzi Non so se farò in tappo perché la macchinetta oggi ha deciso bene di scaricarsi subito Per cui all'alligatore di sicuro non serve ragazzi Proviamo a darle alla mummia Così a caso Cosa ne pensa di questo cocktail? Magari succede qualcosa Forse ha ragione La gradazione è un po' troppo elevata Ah niente da fare L'unica cosa ragazzi che mi viene in mente è di darlo Cioè l'unica O all'orso O al mostro di polvere Probabilmente Vediamo Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi Anche perché se aspettavo che ci pensasse lui Avrei fatto prima morire un'altra volta Che devo fare? Devi solo aprire la bocca e dire Ah Va bene Ah Oh mio dio glielo dà davvero Si sta colpendo Si sta colpendo Geniale Oh mio dio Mi sento Mi sento una gran forza nelle mani Aspetta un attimo Io ho le mani Adesso si amico Suona già più minaccioso vero? Beh certo Direi di si Michia si è evoluto Possiamo forse usarlo Per qualche cosa Ci consiglio di vedere Vediamo un attimo Che succede Se gli parlo ragazzi Non sembri così forte Magari ci dà una Secondo me non sei così forte Ma cosa stai dicendo? Vediamo Non lo vedi che sono fortissima? Certo A me non sembra Mettimi alla prova allora Ecco qua ragazzi Qui nella camera accanto c'è un letto Sono sicuro che non riusciresti a svitare uno dei pomelli Ah Eccolo qua Sarà un giocuto ragazzi Perfetto Abbiamo ottenuto quello che volevamo ragazzi Eccolo lì Sarebbe lui il pomello? Certo Di certo non è una sfera di cristallo Beh un pomello Non ho capito Sì è lui Vabbè lascia perdere A noi due allora Pomello Ragazzi è assurdo Che puttenza Grazie amico Chissà che cavolo ce ne possiamo fare di un pomello Non ho la forza di controbatto No Vabbè ragazzi Allora oggi so di non aver fatto moltissimo Però il mio tempo purtroppo si sta esaurendo Non è come vi dicevo che le cose qui sono così mediate e chiare Purtroppo Tra virgolette purtroppo Bisogna esplorare bene E fare diverse prove con gli oggetti Insomma a vedere cosa succede Per cui la prossima volta ragazzi Proverò ad essere un pochettino più preparata Ovviamente Per cui so che questo episodio è stato un pochettino plosho Però insomma Almeno abbiamo esplorato un pochettino Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Updash a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete questi antiaggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao